Professore Insalaco, quali sono i profili di pazienti aderenti a terapia primaria nella sindrome delle apnea ostruttive del sonno nei quali è possibile valutare la prescrizione di un farmaco per trattare l'eccessiva sonnolenza di urna? È una patologia estremamente complessa quella delle apnea ostruttive del sonno. Abbiamo dei soggetti quali vengono correttamente trattati e nonostante questo continuano a mantenere quello che è un sintomo principale della patologia, la sonnolenza di urna. In questo caso ci ritroviamo dei soggetti che nonostante stiano eseguendo correttamente un trattamento non riescono a risolvere quello che è una delle problematiche maggiori che continua a pesare su quella che è la loro vita quotidiana. Questi sono soggetti che vanno correttamente valutati dopo aver appurato la correttezza del trattamento che stanno seguendo per poter seguire un trattamento supplementare che possa realmente risolvere il loro problema della sonnolenza. Perché questo è importante? Perché sono soggetti che si ritrovano altrimenti invalidate una buona parte di quella che è la loro vita quotidiana. Hanno un rallentamento di quella che è l'esecuzione delle loro varie attività, una minore performance lavorativa, una minore performance in quella che è la guida. Il potere trattare in modo specifico la sonnolenza permette di dare rimedio ad un problema che resiste nonostante quella che è l'efficacia del principale trattamento da fare per la patologia. Ecco, professore, qual è il razionale di trattare con un farmaco l'eccessiva sonnolenza di urna in pazienti affetti da sindrome delle apneostruttive del sonno che rifiutano la terapia primaria? Questo è un dato di estrema importanza perché AIFA ha licenziato questa nuova molecola per il trattamento di soggetti quali rifiutano il trattamento primario. Ahimè, spesso e volentieri il trattamento di prima scelta per l'apneostruttiva del sonno è un trattamento che consta dell'applicazione di una interfaccia, una maschera applicata sul naso e di un prototipo, di un device il quale eroga aria a pressione. Spesso e volentieri il soggetto può anche non accettare il tipo di trattamento. Non accettando il tipo di trattamento permane quelli che sono i suoi sintomi. A questo punto è più utile lasciare il paziente sintomatico non trattato e è meglio evitare cercare di togliere quello che può essere un principale sintomo che tenda a invalidare quella che è la sua attività quotidiana. Eticamente noi vogliamo cercare di restituire il soggetto, la sua comune vita sociale, la sua attività quotidiana. Per far questo abbiamo bisogno di togliere quello che è uno dei sintomi maggiori della patologia stessa.